Anche questo è buggato comunque. È buggatissimo anche questo, però va bene lo stesso. Ok, dai, play with friends. Salvanaggio 1. Ti contatto. Faccio da Oster. Aspetta che cambio... Ciao streghetto! Mi devo mettere un attimo una faccia, però non questa, posso cambiarla? Posso cambiare la mia faccia? Io sto scegliendo lo spawn. Digita una faccina, ok, così, cancelliamola. Come si chiama? Content warning. Content warning. Allora, come... E dovevi invitare tu? Sì, ti invito io. Che faccia devo fare? Così. Ti vede, raga? Così. Allora, O, O e O. Ok. Viva il gioco dei preti buggati. Bellissimo. Ciao, Belzebob. Bellissimo gioco, secondo me. Ma Belzebob hai fatto a posto per il gioco di prima? Cernobili. Puoi entrare? Guardala come l'ha scritto bene Cernobili. Guarda che l'ho cercato su internet, Polpone. Perché io non sapevo come si scriveva Cernobili. All'inizio l'ho scritto Cernobili. Oh, ma è vero, ragazzi, era buggato. Era buggato. Allora, io adesso però voglio fare un pronostico. Ma noi riusciremo... Aspetta, avvio il pronostico. Riusciranno a finire i primi tre giorni? No, Ipi. No, Katia. Noi siamo al giorno 4. No, no, stiamo partendo da 0. Per partire da 0? Sì. Ah, va bene. Ora faccio salvataggio nuovo. Va, faccio, sì. Fai una cosa, iniziala tu. Perché io c'ho il salvataggio 1, che è il nostro dell'altra volta. Sì, ma infatti ti sto stando io, devi entrare tu. E come cazzo sei? Che obiettivo ambizioso. È invitato? Sì, dobbiamo superare i primi tre giorni. A me non fa invitare. È una persona morboglia. A me non fa invitare. Finisco io al collato partita, aspetta. Eh, bravo, unisci di tu alla mia partita. Unisci di tu alla mia partita. Questa non è la forza. Oh, pronto, salve. Ok, mi muto da Discord. Ah, madonna. Vado. Vai. Ok, io mi sono mutato. Come se ci muto su Discord? Con il microfono, come ti vuoi mutare su Discord? No, no, no. Aspetta. Interagisci. Io voglio U.U. Vai, e fatti la faccia. Mai, fatto. Hai fatto? Sei tu? Perché tu ti chiami 030? Ma non mi chiamo 030, è una faccina che fa la bocca a fondo. A pompa. Io no. Benvenuto. Ti va le pompe. Che putisci? Stai calma. Ma perché la faccia a bocca in testa subito? No. Non c'è una particione particolare. Amici, scommettete. Comunque scommettete. Dai, andiamo a fare le cose. Vuoi davvero avviare la partita? Avviamo la partita. E lì, chi riprende? Ma io so che tu eri quella brava su YouTube. Va bene. Allora, aspetta. Devo rivedermi il tutorial perché io non mi ricordo ma qual era. Con questo miro. Poi qual era il coso del selfie R? No, ma si vede da Dio sta telecamera. Così scrocchi. Scrocchi. Ma è già la mia. Io. Allora, sei pronta? Mettiti dietro di me. Ma sto dietro io. Però è visibile. È che è un selfie? Eh, sì, è un selfie. Vai, aspetta. Sei pronta? Facciamo un'introduzione un po' bizzarra. Ma ok. Tre, due, uno. No, ma da fada, bro. Siamo Follettina, Paurosina e Cacca addosso 96. Pronte qui per incamminarci in un lungo e terrificante esperimento dell'orrore. Seguiteci. Via, dobbiamo scappare adesso. Guarda come cercavi di escludermi dalla telecamera. No, no, ti volevo zoomare. Tu sei scemo. Entra. Prima che sia troppo tardi. Il portone. Hai preso la torcia. Ti voleva escludere. Yuga, le dirai scrivetevi durante l'intro, sicuramente. Che braccia lunghe. Eh, vabbè. Però potete scriverti il testo prima di fare sto video. Eh, mo. Noi dobbiamo improvvisare. Deve essere improvvisato. Vai. Caccio la telecamera. Tu vai. Madonna, c'è l'eco. Eco! Eh, quanto eco, è vero. Ma adesso... Eco! Adesso non più. No, forse è ancora eco. Sembrano i primi video degli YouTube per nel 2009. Più o meno sì. Chi se veramente c'è il Nobel comunque, raga? Siamo in un posto oscuro. Cosa vedono i tuoi occhi di elfo, Paurosina? Che cook. Ma mi hai cambiato il nome, l'ho cambiato da prima da adesso. Ah, scusa. Eh, vabbè. Io cambio il nome ogni volta che scendiamo. Da camera io cambio il nome. Meglio così. Mi raccomando, seguite il pannolino 86. Ma anche... Quindi l'hai paurosina. E adesso sì. Scendiamo, dai. Ciao. Aia! Katia addosso, Katia addosso. È lì? Aspetta, scendendo le scale. Oddio, che paura. Katia addosso è sicuramente Katia. Ehi! Siamo pronte? Vai. Andiamo di qua. Lo scopo della nostra fuga qui è trovare qualcosa di spaventoso che possa ammaliare i nostri utenti, la nostra community. Ok, brava, brava, brava. Te l'ho registrato mentre lo dicevi perché... Uh! Allora, facciamo... Ha trovato uno scheletro la nostra golosina della paura. Prendilo! Uohoho! Ok, benissimo. Andiamo avanti. Dobbiamo essere brevi ma circoncisi. Ok, Eli, vogliamo passare tra i laser? No, Katia, io già questa cosa l'ho fatta stavolta. Ok. Allora andiamo a cercare della paura. Ma c'è un altro scheletro. Dove? Lo vuoi prendere tu? Ma queste cose se le portiamo vanno più... Ma no, non credo. Non credo. Ah, no, non servono. No. No, Lisa. Sono banana 86. Se vuoi essere banana 86 va bene. Io l'accetto. Tu devi essere la mia fidanzatina. Quella che trovo alla fine, sui messeri. E lì, ma io... Ma che è sto rumore? Sei tu? Ok. No, dietro muovire. Quando ti muovi... Sì, faccio il rumore di culo. Allora... Ma non c'è nessuno, non ci sono mostri. Io non so tornare più. Ma quelle cose? Sono io dopo la mozzarella sua. Sono persa. Allora, Eli, io mi sono persa. Baronna, che paura. Ok, va bene. Allora, io mi ricordo solo che... Come ti accende la rocca? Baronna, sei tu! Con nef... Così. Beh... Puoi prenderlo allora il torace? Eh, non lo prendere. Portalo... Mettilo via. No, 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 lo lascia. C'è un cazzo qui! Eh, non lo faccio solo la torcia, raga, scusa. Chissà dove è la novità. Ma non... Ma non c'è un cazzo, ragazzi. Non abbiamo trovato della paura. No, qui... Questo... Questo qua è un posto molto lontano dove siamo in... Aiuto. Eh, lo so. Eh, no, Eli, è sempre lo stesso, vedi? È da... Sono le gambe, eh? Ma è super, però... Guarda che abbiamo lo due quasi a metà, eh? Eh, lo so, ma non so come tornare indietro. L'hai lasciato tu, questo? No, no. Come no? No. Io non ho lasciato un altro, ma non era quello. Eh, Eli, se tu dovessi andare da qualche parte, dove vai? Chi è? Eli! No! Scrivi la parola giusta! Dov'è il dollaro? Hai un minuto e venti, non lo so. È diventissimo. Asterisco! F! Un testo nativo! C! U! F! Maggiore! Non funziona! Ah, così! S! No! F! Bravo! C! U! F! Maggiore! Si è aperta? Sì! Oh mio Dio, è stato terribile! Mi sono cacata in culo! Mi ha salvata! Ok, siamo vivi! Andiamo, sacrifichi va! No, no! Ci segue! Chi? Il tizio di prima! Ma non c'è nessun tizio! Ma io lo so... Dobbiamo andare via! Sì! Eh, li dobbiamo andare via! Ma comunque io i tassi della tassiera non li so! Eh, io me li sono inventati! Cos'è so? Ma che... Ah, prendi questo oggetto! Ah, ma quella la puoi usare magari come mazza! Eh, li dobbiamo scappare da qui! Eh, caglia! E lo so, abbiamo a metà ossigeno! Io non so dove cazzo siamo! Dove cazzo siamo finiti! Oh! 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 Siamo fuori! Sali! Andiamo via! Andiamo via! Fermo, fermo, fermo! Eh, però abbiamo ancora 41% di batteria! Della telecamera? Sì! Eh, la mia torcia si è spenta! Aspetta, magari sopra troviamo qualcosa! Vuoi la mia di torcia? No, no, non te ne ho! Aspetta, vai, ti riprendo! Dici che stiamo cercando di tornare a casa! Secondo me è apposto così! Dici che stai cercando di tornare a casa! Che devo dire? Improvvisa, sentiti libera! Improvvisa! 3, 2, 1, via! Amici, stiamo cercando di tornare a casa dopo che devo perdere la vita! Per fortuna la mia supereroina, Yucali48, è riuscito a salvarmi! Grazie mille! Con quanta gioia lo stai dicendo! Corri! La sai cosa che mi è sembrato? È presente quella che mentre piangono si riprendono oltre a casa? Eli! Dov'è il posto per scappare? Si muove, ragazzi, si muove! Si muove! Oh mio Dio! Antonio! Saluta, Antonio! Ah! Eli, si muove se non la guardiamo! Questa si muove se non la guardiamo! Dove sei? Di lì dove? Dov'è Eli? Dov'è Eli? Vienimi a prendere! Ho paura! Mi sto cagando! E' quel puntino giallo, Katia! Qual è il puntino giallo? Eli, io sto guardando lì! No, no, vieni, non ti preoccupare, tanto siamo molto lontane! Ok! Prima il video, poi la vita! Dov'è in filo? Dove sei? Ah! Ti lo guardo io, dai, vai! Ho paura! Si vedono le scritte registe di cameraman, sì sì, ho ripreso tutto comunque! Corri! Oh, c'è... Eh, non funziona, mi si è scaricata la batteria! Eli! Sembra la di bunna! Sto per piangere! Mi riprendo! Eli! Sei dentro? Katia, devi entrare dentro sta cosa! Sono dentro, sto salendo! No, stai salendo le scale! Sali, 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 sali! Salgo! Veloce, 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 veloce! Vai, spegni, spegni, chiudi! Woo! Ok! E anche questo video è stato portato in giallo! Che culo! Che c***o! Che c***o! Avevo capito, chi fa la figa! Che c***o! Sto facendo anche meno! Ok, andiamo a materializzarlo! Colà! Video in corso! Che video! Preso! Caricato! Che bello! Siamo già su YouTube! Allora, questo almeno mille like! Ragazzi, seguiteci su YouTube! È il c***o, non abbiamo detto di iscriverci al canale! Vabbè, sei pronta? Ah, vero! Via! Via! No, ma da fatta! Bro! Siamo Pollettina, Paurosina e Cacca addosso 96! Pronte qui per incamminarci in un lungo e terrificante esperimento! Vedi che mi spostavo con il farmacere! Siamo in un'altra scena! Ma vedi, mi hai cambiato il nome, l'ho cambiato da prima o da adesso! Sei dura di fortuna! E trovare qualcosa di spaventoso! Che possa ammaliare i nostri utenti! Vedi, si vede l'occhio! Ho trovato uno scheletro, la nostra... Prendilo! Guarda! Vieni, vieni, vieni! Bellissimo! Vieni, 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 vieni! Amici, stiamo cercando di tornare a casa dopo che stavo per perdere la vita! Per fortuna la mia supereroina, Yucali48, è riuscita a salvarmi! Grazie mille! Quanta gioia lo stai dicendo! Ma che stai facendo? Eh, devi seguire il fungino giallo! Totalmente è a caso, cioè... Tantania! Questa si muove se non la guardiamo! Dove sei? Oh, mille visual! Dov'è il live? No, madonna, siamo troppo forti! Oh, lascia! Prima il video, poi la vita! No, Vieni in filo! Bellissimo! Dove lo infilo? Bello, salvo sul desktop! Dove lo infilo penso che sia la cosa più bella! Dove lo infilo? Ciao, Laura! Salvato! Oh, Zia è bravissima! Ne va a dormire, va! Vai, vai, vai! I primi 158 dollari ce li siamo fatti! Aspetta! Basta! Basta trombarmi! Ma scusami, ma siamo in una stanza da soli! Lasciami stare, che oggi ho un val di testa! Andiamo, andiamo, va bene! Grazie, Peppe! No, Weaven può andare anche oltre, se riesci a beccare qualcosa di grosso! Il gioco non potete mettere la vostra foto, purtroppo no, ragazzi! No, solo le faccine queste qui! Ok, nuovo giorno! Liquid, siamo con Yucali! Nuovo giorno, nuova pippa! Siamo pronte? Pippa? Sì, vabbè, siamo dei piptubers! Noi possiamo fare solo mille visuali al giorno? No, no, anche di più! Se becchiamo la roba valorosa, sì! No, perché vedi che poi a mille si è fermato, eh! Vabbè, ma perché abbiamo fatto un video di merda! Però dobbiamo fare adesso un video di merda! No, guarda che secondo me puoi fare solo mille, perché sono tre giorni! No, 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 fidati, fidati! Allora, vuoi per caso comprare qualcosa? Abbiamo 158 euro! Vuoi prenderti un emoticon? Allora, io ti prenderei l'emoticon della danza! Ma scusami, 158 non possiamo prendere il microfono! Il microfono? Ma chi se ne frega del microfono? Vatti a prendere la danza, Ellie, così almeno puoi fare dei movimenti in me! Vatti a prendere la danza! Dietro di te! Cazzo, ma hai usato i miei soldi! Ma quali soldi? Sono i soldi della squadra! Cazzo, ma hai usato i miei soldi! Sono qui! Prendi quel libro! Prendi quel libro, cazzo! Ma io ho 8 dollari! E vabbè, ci compriamo il McDonald's! Hai imparato? Vai, prova a usarla! Come si usa? È con... Ecco, fatto! Adesso usala! E adesso... E come... Che cazzo ne so come si usa? Non lo so, con... T? Con T? Con T? È vero, lo fai! Aspetta, aspetta! Aspetta! Ehi! Rifallo! Bravissima! Ti con i miei soldi le ho comprata, mannaggia a te! Ehm via! Adesso puoi ballare davanti ai mostri! Non la conosci? Non la impari? No, non la imparo io! La impari solo due! Perché adesso quando vediamo un mostro... Ma che merda! Potremmo facciare imparare entrambi! Quando vediamo un mostro... Tutti, aspetta, vediamo... No, quando vediamo un mostro... Tu ci balli davanti! Chi è? Cazzo! Aspetta, riprendimi! Arrivo! Vai! Aspetta! Chi è? Vai! No, non fa la cosa di prima... No! Prima faceva tipo sotto ciò... Ma ha fatto capoeira, capito? Cioè... Ma che cazzo stai a dire? Ti giuro! Ha fatto la capoeira! Ragazzo, scherzando! L'avete vista pure voi! Sta merda 150 soldi! Guarda che c'era il bug! Mi voglio che balla anche in live! Certo, io cerco di emulare il mio personaggio! Allora, siamo pronte? Vai! Ui! Ui! Oh, cazzarola! Che fai! Mi ha cicato il culo in fronte! E ti è piaciuto? Mi sei seduta sopra! Allora, Ellie, cerchiamo del malessere! No, no, ho già dato! Torniamo di qua! Hai la torcia? Vai, fai! Ok! Ma è... Ho spiegato la batteria per sta cosa! No, magari il balletto porta visual! Lascia stare! Su TikTok vanno fuori! Vai, vai! No, non c'è il danno da cadere! Non era capoeira ma la vicela stava atterrando! Oh, my bad! Andiamo dritto! Di qui? Non lo so, qui da tu! Più corriamo più sprechiamo ossigeno! Infatti lo teniamo soltanto per i momenti di scappaggio! Potremmo fare che è una panza attraverso i raggi! Perché vai i tu... Dove stanno i raggi? Ah, scusi! Eh, prima stavano di verso queste zone qua! Eh, ma la mappa credo... Chi è? Un raggio! Attenta! Oh, mio Dio! Luce! Ma che schifo! Era per fare scena! Sì, ma è il suono che è scaricato da suoni.com Ah, senti! Dici agli iscritti di iscriversi! Sei pronta? Ok, vai! Lo devi dire in maniera furba! 3, 2, 1... Via! Ragazzi, mi raccomando! Iscrivetevi a questo canale! Fatto! È un canale pieno di... Pieno! Pieno, pieno di... Prima o poi sarà pieno! Sì, sì, questo è il secondo video, sarà pieno! Dai, dai! Non alzo! Dateci il tempo di caricare i contenuti! Ma comunque la torcia si spreca subito, eh! Ellie, se vuoi ti do la mia! Ah, c'è qualcuno dietro di noi! Perché io sento dei vestiti! Ma no! C'è nessuno! Mi sentivo... C'è nessuno! Perché? Vai, 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 vai! Noi stiamo sempre andando a fare in culo! Stiamo sempre andando via! Madonna, chi era quel rumore di un vetri? Sì, però questo posto prima puoi imparare, ma a memoria! Ma io spero di sì! Perché è enorme, sinceramente! Perché io non vedo niente! Maronna, che paura! Ti accende la torcia, ma ho poca... Cioè, non è che ho poca batteria, ma è l'ultima torcia! Io ce l'ho un'altra torcia, eh! Ah, è vero! Aspetta, Katia, riprendimi! Vai! A mille visual vi inviamo foto dei piedini pelosi! Bene, è fatto! Mary, bentornata per un anno! Vi ha inviato visual, no? Ah, abbiamo in voi! Ah, per i rippi! Il culo! No, no, no! No! No, no, Katia, indietro! Signore, non ci tocchi! Vai, 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 vai! Ah! Eh, non so! No! Katia, sei il mondo dietro! No! Tira, tira, tira! Che paura! Non c'è... Non c'è più uno! Si è bloccato? Vai, 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 via! Via, 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 via! Andiamo... Andiamo verso l'uscita, dai! Secondo me è di qua Vai, sì, sì, ti seguo Abbiamo un altro scheletro... Che coso? Cassa toracica Ma non ho capito se questo... Ah, il laser di prima, questo è... La cassa? E quindi il giro-girotondo Vabbè, vedete un attimo... Riprendi di nuovo lo scheletro La cassa toracica È lì? È lì? È lì! Di là siamo venute Eh, prendi la cassa toracica La prendo io? Sì Vai Fai... Oh! Wow! Ok, benissimo Presa, perfetta Presa Posso buttare? Sì, sì, no, butta Sì, sì, no, butta Sì, sì, no, butta Sì, no, butta Ok, allora Qui pare che non esserci niente Che paura Ok L'ho fatto nel momento sbagliato Non ti preoccupare Questo che male Allora, vai indietro Non è mai il momento giusto No, io credo che di qui torniamo indietro Prova Io sento dei piedini Però non so se sono i miei Sì, sì Cioè, no A parte che il suono L'altra volta Non era così Quando ci abbiamo giocato No È più... È più vantato È più... Ecco, questa è L'entrata Ok Ok, proviamo ad andare di qua Non c'è un cazzo È lì Aiuto Morca Corri, corri, corri A 7 like Mi faccio picchiare Da questo vostro Scrivetevi Sì Katia Via, 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 via Dove sei? Aiuto Marisha Scappa dalla paura Scappa Via E li ho persi Ci sarà una micella Ok abbiamo ancora 30% di batteria Dai ragazzi Non è salito E andiamolo a riprendere di nuovo 7 almeno 7000 No ora vuoi vedere che questo ci sbuga Ma jumpscare Aspetta non cado giù Cazzo io avevo lasciato la telecamera accesa Ci sta tutta la corsa Vabbè dai Finiamo almeno col botto L'8% E che botto vuoi mettere? Andiamo a cercare di nuovo Ciao liquid Sei pronta allora fallo tu Vai 3, 2 No aspetta non c'è il mostro Ballasci vicino Finiamo con te che balli vicino al mostro Vai vai ci sto Preparo la T Ok E dove cazzo è andato? È scappato Ho avuto paura Ma anche noi abbiamo finito la stagna qua No abbiamo finito tutto No Ellie non c'è più Vabbè dai facciamo finta che ci sia il mostro Sì sì Sei andato per il disagio Sì ho detto vabbè Anzi fai una cosa Vai sopra le scale Sì Io arrivo da dietro le scale così tipo correndo E poi metto a ballare e gridare vai Sì no 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 Lei così è sempre il gioco Credo che sia voluto apposta liquid Ora sei pronta? Sì Eh cominci Aspetta metto qua 3 Ellie Goddio Goddio Quiuzzola iscrivetevi Ellie dillo 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 E' finito Non ci vuole anche Ciao Bramwen No che lo sia Andiamo via Chiudi 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 È un video in cui Ho solo urlato Video di merda Adesso la telecamera Ma Si è fatto vedere davvero Era dietro di lei il mostro Sì doveva ballare Mannaggia ci siamo Io ho ballato però avevi già finito la batteria Ci siamo perse nel Vai vai Elaboriamo sta cosa Nel entusiasmo Chissà che cazzo è successo adesso nel video Vai Vediamo un po' che fine ha fatto Vai 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 Sei pronta? Sì Senti quel libro cazzo Ma io Rifallo Ah ma è questo Il balletto di merda Sì Io non lo vedo quindi Non fa la cosa di prima Prima faceva tipo sotto sopra Ha fatto capoeira Capito? Cioè Ma che cazzo stai a dire? Stai a dire Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi A mille visual Vi inviamo Foto dei piedini Pelosi Quello ha lasciato una faccina Il culo Signore Non ci tocco Vai 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 Wow Eli Aiuto Ci sono le scale Ci sono le scale Mi faccio un picchiere da questo nostro Mi faccio un picchiere da questo nostro Dove sei? Dai almeno 1100 Dai 1100 Scappa dalla paura Via 1200 Dai Ci sta Ci sarà una vicella 1300 E' perché siamo scappati 27 Non è salito Infatti Ce lo chiedono 186 No ora vuoi vedere che questo ci sbuca Fa jumpscare Oh 1400 No non si ferma questo Eh ma perché guarda dobbiamo riprendere solo i cattivi Ciao raga Ciao raga Ti prego salvo pure questo Teniamo tutti insieme Il finale era bellissimo Il video migliore del web Il saluto di Spera Ciao raga Era bellissimo il finale Oddio A dormire Quelli erano gli ultimi 8% di carica Sì con me che urlavo Dilla Ciao raga L'ho montato col pineto 1400 in un video raga C'è un famoso Oh 1400 C'è il secondo video che facciamo Ci vogliono veramente 30 anni C'è Oh E' il secondo video che facciamo Siamo già super famosi Allora Eli Tu hai ancora la torcia? Eh la devo Sì perché me ne ricarica in automatico No te le ricarica qui Ma ti levi dai coglioni Te le ricarica qui Ah No ma io ce l'avevo No me la carica in automatico eh Vado aspetta riprendo Quando mi sveglio E mannaggia che non riesco a prendere Se il mostro entra nella navicella con noi Sai che non lo so se può entrare Andri Oddio non credo Non lo so Allora Eli cosa vuoi comprare? Ne abbiamo un 200 Io non l'ho visto salire No no fai una cosa aspetta Microfono Il microfono lo tengo Lo vuoi il microfono? Eh vai O vuoi la cosa per fare i suoni? Fai il ciak Fai il ciak Ti prego fai il ciak Compro il ciak Tu sei sicura? Prendiamo anche il microfono va Vai Vai Prendili tu Prendi sia il ciak Che il microfono Possono? Oddio Voglio tutto No Santo Dio Mi ha spaccato il cur Vabbè come si fa? Sei pronta? Prendi il microfono anche Sta per terra Ah Non hai spazio Ah cazzo Eh no Aspetta ma io posso imbuttare gli oggetti Sì però Qualcosa ci servirà Prendilo tu Lo prendo io Eh ma no poi non posso riprendere Vai sei pronta? Sì Fammi una battuta frizzante con il ciak Tre Aspetta ciak iniziale o finale? No Fai tipo ciak Ciaccami tutta Non lo so Dimmi Di una cosa Vai Tre Due Uno Via Raga ciakate il video Bellissimo Dai Fatta Lo diciamo all'inizio del video Così almeno le persone già lo sanno e mettono like Sì Perfetto Mi sembra una bella tecnica Io leverei Leverei Mi sembra una buona tecnica Allora Aspetti Scusami È per attirare i mostri Ah Elie si scende da qua Credo Da what? Da quando è che c'è C'è una discesa? Eh adesso c'è una nuova discesa Ciacca la tutta È cambiato? Sì credo che cambi la mappa Che significa cercate il video? Eh Non lo so Manco io lo so Però magari Vedi le persone si chiedono Che significa Però adesso commenteranno con What is it Jack? Esatto Ah Elie Ok vai Elie dove sei? Chi era? Qua Dietro in te Cosa era? No non ero io eh Eh io ho sentito però qualcosa Sì 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 Era alla tua destra Ma non so che cosa fosse Com'era la mia destra? Com'era la mia Elie Ma Katia si è Ah Eh? Chi è? Chi? Cosa? Cosa vibra? Non so Non so Ha vibrato Ma io non lo so Io ho sentito della paura Però non ho visto più niente No 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 Oh figo Andiamo di qua Oh Ellie Ok Ellie Ellie Katia Ci sono le ruote Ah Signore Jack No Mi lasci Ellie Scappa Dove vado? Ho chiuso qui Oh cazzo Dobbiamo tornare indietro Allo sciclo E allora via Di qua Corri Povero luvacorn E tiratela Le visual Le visual Pensa alle visual Ellie Vai Chi è? Ma chi è che mi spaventa Ci stanno inseguendo Ci stanno inseguendo Ci stanno inseguendo C'è anche due Ellie? Ellie Nooo Che sudore Wow wow pratica sessuale incredibile oh no a dodici like faccio sesso con quei cosi è lì è lì oh santa sovacca è morta o cristian telecamera vergogna dovevo scappare via devo scappare via ragazzi devo scappare via filma il cadavere e no raga ma siete scemi arcazzato fasse mazza chi è cos'è qualcosa mi insegue sto godendo va bene devo filmare ancora raga è troppo poco cos'è questa roba ciorbi cos'è no sarebbe stato un un video veramente fantastico e niente non abbiamo ma che che terribile che terribile cosa il ciac fa questo effetto posso dire io lo sapevo lo sapevo niente raga abbiamo fallito abbiamo fallito è calvia io ho provato a ciaccarlo ma lui era più forte però ho visto una cosa bruttissima ma tu hai visto che mi ha preso c'era della violenza su di te madonna santa erano in sei c'è ma cristo santo che cazzo era secondo me è veramente il ciac puoi essere veramente il ciac c'è stata della violenza su di lei non so no è un peccato credo sia colpa della cosa che hai raccolto ah tu credi che sia quello no no secondo me era il ciac perché ha fatto troppo rumore raga eh secondo me sì dai allora rifacciamolo era l'unica cosa che faceva il rumore era quella rifacciamolo ma abbiamo più abilità come videomaker allora io mi prendo un'altra torcia e nemmo via adesso facciamo direttamente solo paura eh dobbiamo cercare per i tizi parti vai fatto credo sia quell'orsetto schifoso che ha toccato eh non lo so ragazzi perché mi inseguito è troppa gente era troppa gente raga è impossibile prova a prendere questo oggetto è lì vediamo cosa un teschio oh sì 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 guardate abbiamo trovato un teschio oh ok ho investito tutto su di lei sembra dico non lo so quando fai un video fai a prendere i suoni sul sito di intelleggia suoni preimpostali oh no no tu sei pronta vieni è pronto a tavola allora Eli fai un facciamo una fake news fai finta di cadere cioè cammina dritto dici ah scendiamo e poi caldi giù e facciamo oh no è morta lo scoprirete seguendoci con quella sotto che parla arrivo io che posso dire che meglio di così non potevo imitarla questa cosa è vero che recitazione che ragazza 25 sono 10 ci hanno ah Eli Eli armi no c'è qualcosa c'è un frullino c'è un frullino c'è un frullino ahhh santa saraparicca dove è andato Eli dove è andato è qui mia mamma fa la sporca signore sta bene sta bene Eli dobbiamo andare via eh lo so lo sento si però via nel senso che dobbiamo filmarlo è andato via signore no accendimi la luce ma è davvero un frullino si 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 eh è quello che ti frulla i biscotti ma no abbiamo 60% di eh non lo so abbiamo 60% di cosa dobbiamo prendere altro terrore c'è anche il terrore facciamo uno anche un momento spottino vai sapete cos'altro fa paura non iscrivervi a questo canale ok almeno così lo sanno è così che Katia ha raggiunto i primi suoi solo verso YouTube esatto nel 2010 passa attraverso i laser vai vai passa attraverso i laser ragazzi voglio passare attraverso i laser wow che figata fallo pure tu non l'ho ripreso andò papà avanti oh mio dio l'uomo frulla fruà marcio non è giusto vieni scappa 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 sto tornando andiamo via andiamo via aspetta che non riesco a respirare aspetta la luce Lely no Katia ci siamo usciti no Lely dove sei il frullino è qui fuori ciao dobbiamo uscire io non so com'è Lely io non sfudo di mistra no Lely è qui e lo so ci siamo chiuse qua e attiriamolo con l'inganno eh visto no no salta salta cosa devo saltare porca zizza Lely scappa eh scappa aspetta ci siamo incastrate entrambe qui dietro non faccio bene non si può uscire come no che baggato no Lely Lely lui sta venendo da te no no è qua è qua Lely Lely di qua non si può uscire allora Lely odio scappa scappa da qualche parte iscrivetevi oh cazzo chi è quello ragazzi ma stava correndo da qualche oh porca zorma è lì è qui dietro dov'è è lì eh no cazzo sta tornando come faccio attenti la sera eh no Lely dobbiamo scappare da qui eh lo so senti ma non se ne va non abbiamo abbastanza ossigeno tieni prendi la mia torcia illuminami ma non c'è bisogno nel caso dovessi morire ma rarga prendi la telecamera prendi la telecamera e scappa rullami bastardo corri ciao Gennaro scappa 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 si Gennaro via 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 di qua eh ma dove va questo non lo so però respira appattora la salva la telecamera no non ce ne andiamo non ce ne andiamo torniamo a casa si va a casa si va a casa di qualcosa di assurdo per chi includere il video pronta 3 2 1 di qualcosa di assurdo per riscriversi e dire chiudere il video 3 2 1 vai iscrivetevi e moriremo perfetto o la vita o la sub anche meno però ciao 3 3 4 dai 9% di video disponibile io tu non hai un ballo eh da fare eh non ce l'ho più ah no aspetta vai aspetta vai sei pronta si vai wow incredibile fatto andiamo via via ciao ma scusate adesso il balletto non è rimasto eh credo di si questo si non è che questo è quello base no 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 non credo dal mio microfono non posso ciao ok allora andiamo a vedere sto video vediamo un po' che che munnezza abbiamo creato qua a sto giro ne spero che abbiamo creato una bella cosa ti prego almeno almeno 1200 dai 1100 io voglio dire che è il primo content di qualità ci sono sempre sì ma c'era il frullino sei pronta vai via era troppa gente vediamo cos'è un teschio oh sì 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 guardate abbiamo trovato un teschio Katia la strada giusta è questa scendiamo oh no è morta Katia lo scopriete seguendoci Katia oddio c'è fuori no 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 c'è fuori no 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 la storca va bene che merda tutto mi preso male vai non iscrivervi a questo canale vai vai ragazzi voglio passare attraverso il laser wow oh mio dio l'uomo frulla madonna marcio no no è riscappa scendiamo almeno a me mi ha preso la ruota culo qui che cazzo vuol dire che i cani sveri articolate non lo so sono articolata che cazzo mi commento i cani sveri articolate sono i chi cazzo tu mi stai rincorrendo lui o lui non lo so dai almeno 1100 vedi volevano il balletto finale il balletto finale l'hanno apprezzato 1100 ah infatti 1100 raga 1102 attenzione oh perfetto perfetto Eli io direi l'ultimo commento I'm always in our people who can dance like this eh vedi vedi che il tuo balletto ha fatto scalpore allora facciamo il balletto finale secondo me dovremmo utilizzarlo anche con i mostri basta anche con i mostri scusa scusa è violenza è piaciuto il balletto secondo me anche con quello eh comunque anche nella vita reale Katia secondo me se facciamo un balletto fino alla fine dei video di youtube non è male non è male potrebbe esserci un balletto di chiusura per ogni po' ah Eli c'hai la torcia io ce l'ho tutte e tre ok caricale e poi partiamo vabbè prendiamoti qualcosa ah vero senti vuoi prendere io ti direi scusami bastone stordente lo posso usare per i nemici si ma costa 400 ah no niente no prendi almeno una radio va vai vai prendi una radio perché almeno fai i suoni è una quello è uno stream deck con i suoni si no ma è un ipod prendi baduntis vai aspetta what the fuck vai vedere vedi che se scorri con aspetta benissimo aspetta ma puoi fare quanti suoni se no 21 suoni Katia lui la voglia di fare applausi sacco di contenuto mamma mia hai voglia di fare vai entra ma che noi noi non faremo più niente abbiamo qualcuno peggio di lino ho fatto male a darle quella cosa questo è il mio suono preferito ok aspetta che sono macchia oh Katia non ti toccare chi è chi è c'è la canzoncina delle news si per fare le notizie no ti prego li voglio tutti questi suoni aspetta li vogliono la realtà nel mio stream deck dobbiamo pensare a resistere chi è ma non fare suoni scus ancora si vabbè aspetta raga io la denuncio ma guarda basta che bello questo per iniziare ma non capisco niente io faccio le cose per essere fighe ho capito ma concentriamoci sulla morte guarda che questo è il secondo video se non facciamo le fighe ora infatti mi devi usare i suoni però che paura coglioni ora arrivano tutti i modi no ma ci ritriamo tutti i modi in faccia sei pronta ah dove sei è lì raccogli un po' questa cos'è una caffettiera ah ah cosa vabbè io non ti ballo più non è successo niente no che ne so ah qui c'è un'altra ah ci sono anche degli ossi si sorgole io dico così a caso sembra in sé che sembra tipo un drogato vai musica ma smettila ah cosa fai ma adesso sveglia tutti i mostri che ci sono qui dentro questi ci ammazzano sono sui cazzi sui ok sei con me vai sono pronto allora no è zocco io sto cercando di capire chiaramente la cazzo è una dura prova lei dovrebbe sapere no no io so già so già quel coso è lì Katia che cos'è che cos'è quel coso avviciniamoci per scoprirlo mamma cos'era non lo so cos'è ma ah è lì scappa scappa è lì sei con me ok ma sei tu mettendo le canzoni dell'atmosfera qua ma basta con le canzoni scusa dove dobbiamo andare io faccio il sound delle video e ho capito scappate e fate riprese e ho capito vorrei oh c'è un altro osso wow Katia è dietro di noi mia sorella nuda Marco Ellie au ti sta lanciando le granate no sono nuda Ellie dobbiamo scappare torniamo a casa armia mia sorella è nuda ancora basta Ellie che cazzo suona le smettila di suonare le campane c'è del rumore andiamo a casa vai 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 come si torna a casa sorella un po' di defenza andiamo di qua vai 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 vuoi finire che fai rumore cerca la strada di casa Katia riusciremo a uscire di qui no 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 allora è la strada iniziale forse è questa la musica della tua spesa fai un po' fai un po' di no fai un po' di chiacchiere ma basta allora allora vai partire mentre cambiamo nel niente allora io dove cazzo siamo ok Ellie siamo fuori siamo quasi riusciti ad uscire ci sono dei lasers cosa ne pensi di tutto ciò che cazzo però pure tu ok aspetta riprendi riprendi vado vai abbiamo ritrovato la strada lì lì c'è qualcuno c'è qualcuno io spendi la luce io non ce l'ho la luce signore ma io lo devo riprendere facciamogli la pernacchia quando saliamo sulla navicella recupera prima stamina poi dopo dobbiamo correre riprendi mentre lui cerca di salire su di noi cioè su cosa su sulla navicella vai 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 corri fregato stronzo suga ti prego ok sono qui oddio meno male che ci siamo riusciti a portare la roba eccomi arrivo fregato stronzo cioè era per chi fondamentalmente per quello che ha sparato perché a me non vai la cosa prendi l'altra mettevo tutto lì nel terrazzo dio mio mi sono girata il bello è che mi sono girata e te eri di morta io mi ho messo la canzone questa qua e poi sono morta alla fine oddio allora via no questo deve essere almeno da 1500 eh eh no per forza qua c'è stato tanto intrattenimento eh sì dai cazzo sei pronta vieni vado aspetta aspetta però senti che bello questo eccoci ma meglio un po' questa cos'è una caffettiera ma che bellissimo si sorgole dai con il mostro inquadrato per forza dobbiamo arrivare almeno a 1500 è 5 guarda 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 la visualizzazione non usciremo a uscire di qui siamo quasi riusciti ad uscire ci sono tu che condirevi a sbomare sui miei scusa io rovo questo silenzio abbiamo ritrovato la strada no spegnì la luce spegnì la luce ti ha detto che sono terrific si si la tua telecamera la luce vai 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 oh 1500 freddo strozzo questo lo sa lui no 1500 raga di cazzi raga hai finché babbalutti diet no bro hai visto male no sta bene sta bene sta bellissimo Eli questa volta ce la possiamo fare si si vai però Katia ascoltami il terzo lo facciamo più safe si no no il terzo lo dobbiamo fare è safe perché non ci dobbiamo mai tornare a casa il terzo dobbiamo portarci a casa 500 visual ciao Wolfina si dobbiamo portare a casa 500 contattori li posso ricaricare perché ce l'ha su pc si si sono tutti su pc io in realtà volevo farci un video proprio ma anche no ma pure io vorrei farci un video se riesco eh farla famola famola ancora basta questo cosa allora vediamo un po' che cosa possiamo prendere allora sì mia miseria ha bagato il personaggio allora gadget Gesti dimenticati Non l'hai scopata Yoga Ciao Tiffany Ma allenamento che cos'è? Forse fai l'allenamento La modicon dell'allenamento Oh ma c'è il gesto Gesti dimenticati Non abbiamo ancora tra abbastanza soldi Sì ma il succo non è un gesto dimenticato Vabbè dai andiamo No aspetta Che? Chi? Compriamo Che vuoi comprare? La danza 102 E compra la danza 102 Vai ormai sei diventata Perché guarda che prima vi ho fatto un sacco di visual Esatto è vero Quindi magari farla potrebbe dare visual No Ah vero Caglia non ho scopato Caglia prima di andare a letto Oh ragà non è che si può fare tutte le sere eh Eh va Ok via Madonna giro giro Pronto Sbrigati su Ti lascio fuori la prossima volta Ciao Wolfina Tu 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 Ah guarda che ballo Ah vai fammi vedere il ballo 3 2 Aspetta aspetta faccio una cosa 3 2 Vai Via Le Le Prego prego Ma comunque gira la testa Ti gira la testa Vai scendiamo Il ritmo del sacco No ma lei si mette a fare i tic toc Pro poco Bellissimo No io oggi io ci mettevo Le Sei pronta Vai C'è un C'è un qualcosa Io li prendo sempre perché Fanno visual Andiamo a cercare qualche mostro oscuro Dai No raga Mo dobbiamo per forza vincere Chi è? Non lo so Ho seduto un tonfo Eh li ma sei tu ma vaffanculo Eh ma sono 21 suoni fammelo imparare Ho capito Ah il cricket è un certo Madonna io li sento Io li sento veramente Tu li senti forte? Sì No scusa No no figurati Però usali vicino anche vicino ai mostri Dove Qua Andiamo dritti Eli non possiamo fallire Non mi ha fatto andare No Oh Ci sono resti omanzi Che paura Ma tu sei scema E allora Ok Allora la prossima volta ci coordiniamo Ma non trovo un cazzo di mostro Eli 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 Oh cazzo Ah Au Che cazzo è successo Scappa Katia Scappa No 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 Eli Eli lancia qualcosa Fatele lanciare qualcosa Si poteva liberare Si poteva liberare Si poteva liberare Non mi fa andare via Che cazzo dai Non è possibile No raga No raga Non si poteva liberare Mi dira no la ripresa No Non mi lascia raga Che cazzo mi sta scopando E mi ha scopato da un buco Deve lanciare io Mi ha scopato Pane semente Sei morta Si vai via Non posso Scrivete di tornare Sono morta Sono morta Siamo morte di nuovo Eli Mi abbiamo fatto cacare Oddio Allora Gli avevo detto Gli avevo detto di andartene Non hai capito Mi ha succhiato Un mostro Ragno Mi ha succhiato Un mostro Ragno C'era un mostro Ragno Doveva solamente portare In salvo un video No Cazzo Eli Però Dai No facciamo l'ultima volta Dai Io non me ne vado di qui Finché non superiamo I primi tre giorni Non è possibile Amici c'è un altro C'è un altro pronostico In corso Via Questa volta È la volta giusta Perché tre È il Ma adesso Nessuno ti farà per noi Ma sì che ti fanno per noi Ragazzi Il tre è il numero magico Nel video dovete scrivere Twerk Ah scusi Ah vero Eh lo so Devi twerkare Da Riproviamo Già due volte Fidatevi di me Ragazzi La terza volta Ce l'abbiamo tutto qua Capito Ce l'abbiamo tutto qua Io ce l'ho tutto qua Adesso Siete pronti Andiamo Vai Pronosticate a mio favore Non vi preoccupate Ti sto dando fiducia E fai bene Se avete 2600 views Dopo due giorni Il terzo Fate un video di tre secondi In cui qualcuno ruta E l'avevo detto E portiamola a casa E ho detto di andarsene Non lo so Quali due canzoni posso far cantare A Yucadia Nessuna Non poterò Nessuno No Katia Non mi sbatterà Dove la fotografia Ma siamo partite Ma perché non partiamo Non c'è due sentite Giuro che questa volta Ce la facciamo Che è? Ti sei sentita male? Rifallo vai Vai Eh ma mi giro la testa Madonna mia Mi giro la testa Andiamo via Hai fatto vincere una vanga di punti No no Per altri motivi Più nobili Ho abatecato casa Vinci per favore Non vi preoccupate Adesso è tutta fatta Siamo tutte fatte Ma in che c'è? È che Siamo fatte Per la vittoria Vai giù Con questo rumore di ali Giù Giù per il tubero Aia Sei bene? Sei Andiamo Lei di qua Raga fidate Oh Una medusa Una medusa Una medusa con gli occhiali Ok andiamo Chiamate il carrozziere Ma no Che le nostre carrozze Stanno bene Eh ma c'è il Lego Ma l'altra volta Non c'è il Lego Eh credo che l'abbiano messo Eh Eh Dobbiamo cercare Dei mostri incredibili Adesso Eh ma Vedi una luce di qua Vediamo un po' Cioè vai a recuperare le mozze di prima No 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 Mo li recuperiamo Non ti preoccupare Le puzzette Mi credo Mi credo Mi credo Iscrivetevi Eh no Me lo devi dire Quando lo vuoi dire Però aspetta Che sta al 78% Non ho più i miei suoni Però no Sono triste Ma li rivenderemo Non ti preoccupare Allora Il video di prima era mitico Lo so Fai Fai una Fai un suono con la bocca Perché sto per inquadrare l'osso Qui terra Sei pronta? Sì 3 2 1 Urca Verissimo Bella Mi è piaciuta Era un suono Cos'è questo Musica di dramma Sì sembrava un po' Goku Però va bene Mi piace la spontaneità Grazie È lì Ciao occhio Ready Ci accade gli acce Ah Frullino Frullino Frullami le palle Frullami le palle Sta arrivando Ah Apri Bastardo Vai a cacare Ah ah È ancora qui Sta caricando Sta caricando È lì È andato via È andato via È andato via È andato via Ok 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 Siamo vivi Siamo vivi ma anche un po' morti Io ho zero vita È lì No è ancora qui Maronna mi No è lì È lì È lì È lì È lì Ah cazzo Via 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 Marcherita No è lì Salva la Salva la fotocamera La fotocamera La fotocamera La fotocamera È morta È morta La telecamera Ragazzi No ragazzi Senza la telecamera Non ci dovessimo andare No raga Ragazzi Come non ci riprenderò la telecamera Io adesso Vi prego Andate Dite che deve andare A riprendere il mio cadavere Non è È morto il cameraman Devi andare a riprendere il mio cadavere Ma se ci vado Muoio io Mai più Voterò a vostro favore Dai È lì Cazzo Affrontalo Riparo le mie cose Mi aspetto una buccia sotto un fondo Non è Non vi preoccupate Posso aspettare che passa il frullino Ma il ragno Il frullino non passa Lo deve superare lei Eccolo Bravissima Ok Cazzo Ok Deve superare solo il ragno Aspetta vado dalla porta Eh che era di qua Io sono morta qui Eccola Katia Bravissima Bravissima No cazzo No raga Si è incastrata nei fili Non mi sono attaccata Alla cosa Katia La ragnatela Sbattiti 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 Ma io mi sono attaccata Alla ragnatela Mi sono fatta bloccare Da una trappola Che è stata usata Che è stata usata con Katia È libera Che cazzo Cerchiamo di scappare A portare la nostra vita in salvo Io non so dove è Ritorno Katia Torna Per favore Qualcuno l'aiuti Ti prendi il cadavere Lo riprezzo Salva il video Ma come fai a stortarlo Raga Qualcuno l'aiuti Sto cercando l'uscita Ma Sarà Una cosa Molto difficile C'è bene Il drama porta views Lascia fare Eh L'antica camera Sì L'antica telecamera Andava portata in salvo Se parla abbassare Se mostri Magari non è gente Dai Sta andando bene È che io non so dove Che mi inchiara L'uscita Sento brutti rumori Deve andare a destra A destra A destra Vai Vai No no Sbagliato Dritto 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 Ciao Angelio E il cane YouTube Nelle tue mani Madonna Ellie Ti prego Salva questo filmato Dobbiamo volare l'affitto a casa Che caccio c'è la telecamera Anche di qua Piano piano No 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 Cazzo No c'è qualcuno che sta correndo C'è qualcuno che sta correndo C'è un altro tizio che ci sta inseguendo Eccolo No 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 Devi andare via No No raga Questa è l'uscita Ragazzi è l'uscita questa No No raga Non è l'uscita Sì Nico Io non mi ricordo Sta registrando lei È lei che c'è la telecamera Corri No Saretta Mi serve la stamina Se mi spunta il mostro vicino Non mi conviene correre Piano 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 torneremo Dai che se torna alle scale Comunque potrebbero metterlo Tipo una cosa con scritto exit Madonna mia Pochissima energia Passa qui dentro Vai Forse ci sta qua una porta Hai poco o due E lo so ma se corri è ancora aperto No non c'è una mappa Non c'è niente No dai Non può morire perché finisce l'ossigeno Cosa hanno detto Ellie corri Ma perché non corre Corri Prendi un'altra porta Che a troia Prendi un'altra porta Vai No Prendi un'altra porta No Non è di qua l'uscita Vai Ellie Oh c'è un osso Sarà quello di Katia Completamente a cavo Ma torna a cavo Sì È questa È questa la stanza Ditele che è questa la stanza Deve andare in fondo Deve correre Deve correre A pochissimo ossigeno Cazzo c'è un ragno Deve continuare così Questo mi sa che è in teschio Non di qua Non di qua In fondo di là Vai A destra A destra A destra Sì Sì ragazzi abbiamo trovato l'uscita Siamo in salvi Siamo salvi Portiamo Katia via da qui Madonna Ellie ti prego Entra subito nella navicella Cazzo Mi sa che muore per l'ennesima No ragazzi No ragazzi Ce la posso fare Io mi ricordo sempre le strade In questi giochi No ragazzi Deve calibrare tantissimo L'ossigeno E deve correre via Ragazzi guardatela No ragazzi Ma la nostra Ti prego corri Ti prego corri Ti prego corri Ti prego corri Katia Katia Però la telecamera è qua È stato un viaggio incredibile Devo dire la verità La telecamera è qua Portarla in salvo Ma era difficilissima Ma perché non correvi Non era nemmeno finita il primo No 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 Aspetta Ma che ora ce la facciamo Non vi prego Facciamo 1500 e 1500 di visual Vieni Ellie Vieni Ellie Vieni a dormire No no Ma ce la facciamo Raga Non vi preoccupate Eh ma non abbiamo più il video No Ma tu Ma facciamo 1500 visual E 1500 visual Non ti preoccupate Sì Deve riprendere la morte Sì dobbiamo riprendere qualcosa Di terri Fatti ammazzare Ah grazie Oh prima son morta io Dai tu sei morta Perché sei morta tu E mi hanno attaccato Mi hanno attaccato tutti Che acciucciato Prendi la torcia vai Ma siamo sicuri che il video Non è recuperabile Eh non credo Che sfiga però Minchia dai son morta Dopo aver trovato la strada Che palle veramente Era bello il video Questo ci avrebbe fatto Fa un sacco di visual Per i suoni ci vogliono i soldi Sì Questo ci avrebbe fatto fare Un sacco di visual No perché tu sei morta qua Sei morta all'entrata Quindi a meno che non la troviamo qui Non ci dovrebbe stare Sì io sono morta qua Ora prima di tutto lì c'è un osso Io lo riprendo perché fa visual Vai riprendi questo Un pene Ok Non credo che sia un pene Perché i pene non hanno le ossa Eccolo È lì No no Katia Porta sto Katia Dammelo Dammelo No 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 Via 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 Che cucucu Andiamo avanti Registriamo Sì sì registriamo Ma registra qua vicino però No ma Che registra qua vicino Dobbiamo portare a casa il secondo Facciamo il secondo Sì però se mi dai una telecamera Se tu muori Ah tieni allora Prendi questa Eh Oddio Katia Ok Dai se tu muori almeno Vai Ok Un altro scheletro tesco Ma è pieno di teschi e di scheletri e di cazzi Sì Se tu muori Eh no raga è normale È giusto che qualcuno almeno porti in salvo un video È lì se io muoio tu vai via Ok Sì Sì Eh ho capito ma Prima ci ho provato Ok Massimo due giocatori No Loris Svina a quattro Riprendi qualcosa di bello e andiamo via Qualcuno si addentra nell'ombra Eh li andiamo a prenderlo Altri ossa Probabilmente lui Questa cosa si gira Non è vero Sì si gira Si gira Si sta riprendendo Non fa nulla Hello Bello guarda che questo è il nostro video non il tuo Ci sta riprendendo Ok Vabbè sembra tutto a posto comunque Andiamo via dai Andiamo altrove È lì È lì È lì Ok È una cosa di cane vai Cosa è che si apre e si chiude È una cosa che ci ammazza quello Chi è? Cos'è? Il cagnolino Margherita Scappa Scappa Torna di qua Torna di qua Iscrivetevi Ce l'abbiamo dietro Ce l'abbiamo dietro Eh lo so Non so dove andare Oh porca zizza Corri Eli Corri Eli Caglia devi trovare l'uscita Ce l'ho ce l'ho Non so dove andare È una di queste porte comunque Non ti preoccupare È tutto nelle tue mani Allora Dobbiamo trovare un altro mostro Eli 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 Ma dove vai Era andato avanti Ma va un po' al culo C'era l'uscita di lì Come c'era l'uscita di lì Armi Armi e bagagli Lo sapevo Santi Crozzi Ah Inseguiamo il cane che insegue i papalusi Non è vero Non è vero Eli Eli Oh cazzo E mo dove va Mo come faccio A margherita Katia ma dove vai Registra Sto registrando Che bel cagnolino Ciao cagnolino Ciao cagnolì Ma perché vado di là Io volevo andare di qua Io è lì che volevo andare Dove è andata Eli Raga Io devo inseguire Eli Dove era l'uscita Dove è che ha detto che era l'uscita Di qua No dai Devo andarla a recuperare Oh cazzo no Oh cazzo no Queste porte di merda Baba è viva Ok Ditele di andare via Io mi sono persa Ok 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 Oh cazzo Di qua Di qua Ah che pazzi Oh mi prude il culo No Porca smiccia Ragazzi E io Non so come fare Prendi la sinistra Qual è la sinistra Mi sono spaventata tantissimo Anche io Voglio andare a casa Voglio andare a casa Se trovate questo video E io sono morta Voglio solo dirvi che La colpa La colpa è di Come esco da qui Era qui Ragazzi Era qui Io mi ricordo Che era qui Era qui Che si usciva Di Babalu No No ragazzi Era qui Baba è uscita Ok Oh Cazzo Cazzo Salgeriski No è solo morta Sono morta Sono morta Merga Lasciami 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 Ok Mi ha lasciato Mi ha lasciato Brava di qua E sto andando Ragazzi Dove cazzo Si esce Si Allora Io ce la posso fare 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 Ce la posso fare Ce la posso fare E' lì E' lì E' lì Corro Arriva Dai Torno a casa Dai Dai Spingi Entra dentro Entra 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 Corri 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 Entra 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 tu Entra tu almeno Dai Per un Chiurlo Dentro Partiamo Via via Due video Due video in salvo Cazzo Due Ragazzi Due su due Due su due Comunque il titolo del video si chiama Fakati Asuka Alla fine Allora aspetta butto prima questo Vai Aia la mia mano Lasciami Vai metti il tuo Ok Ok Vai Vediamo prima il tuo perché è il primo Sì 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 Mo ho 7 milioni di visual veramente Ti prego Ti prego Vai Vai ma mi gira Lo sto Mi gira Ma Tubera Vabbà Lusi denzo style E' competibile Aia por Sei bene Ehi Vai prendi questo Una medusa Urca Nonna mia Che pettettismo Non la mia palle Anciampo da solo Andato via Andato via Andato via Dragno Via 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 Sto coprendo È vero ragazzi Scusate Katia è lì ma io mi sono attaccata Allora Mi sono fatta bloccare Da una trappola Che è stata usata con Katia Siamo di scappare E portare la nostra Attenzione 1.100 1.200 E lì Sarà una cosa molto difficile Eccoli ragazzi C'è un altro tizio Che ci sta inseguendo Raga si vola No 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 Arnail man Grazie è l'uscita Questa Oh 1.600 Succhia Vai Sarà quello di Katia 1.700 È lì Siamo salvi Siamo salvi Portiamo Katia via da qui Ragazzi guardatela Quella è la nostra via di fuga E basta Finisce così Ebbene Salva Aspetta Lo voglio salvare Vai Ok L'ho salvato Metto il mio Sei pronta? Sì sì Riprendi questo Un pene Oh se facciamo altri 1.600 Easy chiusa Che 1.400 Che cazzo Vero Eh ma tu sei stata rincorsa Quindi secondo me sì Katia questo cosa si gira Si gira Che io non vedevo un cazzo Bello guarda che questo è il nostro video Non il tuo Il cagnolino Ma qua scuola sei tu da sola Perché io già me l'ero andata a cazzo Ah no Ecco Ellie 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 Io ti puoi raccogli Oddio Ma dove cazzo vai Ma dove vai Lo sapevo Lo sapevo Sampi i prozzi Dai almeno mille Eh qua mi stava rincorrendo Sto registrando Che bel cagnolino Sto registrando Bravo Ciao cagnolino Dai mille Mille due Mille quattro Che disagio E io sono morta E io sono morta Voglio solo dirvi che La colpa La colpa Cazzo Io ce la posso Ma la colpa Di Chiara Alla fine È lei È lei Bellissimi 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 E siamo a 2009 Ellie Ci mancano 100 visual Allora Katia Noi entriamo E basta Cioè ti prego Portiamo a casa Staviglia Ci mancano Very good at speaking Il sesso della Della vittoria Scusa proprio io Basta Trovarmi Ecco il sesso Della vittoria Hai il balletto Sì Ok Guarda che ci basta Il balletto Dai Ellie Così concludiamo Questo giorno E direi che stacchiamo Però Però questo ultimo giorno Deve essere col botto Sì Riprendeteci Alla fine È colpa di cazzo Ciao Francesco Alla fine È colpa di chi era Benton laser 18 Ciao Io volevo mettere Io volevo mettere Nessuno Però bellissimo Che subito dopo C'è Cazzo Grazie Siamo pronte Ciao Finalmente ti ho trovato Da circa quattro anni Che non ti trovavo Da quando mi sono Lavorata Minchia ragazzi Comunque Cosa di cerebrolesi Sappi che ho registrato L'intro del video È sì Di un branco Di cerebrolesi Vai Che c'è stato Dopo Via Comunque col balletto Te l'ho già Mille vita Siamo a finirla qui No no È lì Almeno un mostro Stiamo vicino alle scale Sì sì Non ti preoccupare Vieni vicino alle scale Sì sì Non ti preoccupare Poi sei in cula Dall'altra parte Dove dico io Non è Questo Viseggia Con lei Madonna mia No 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 Non ti preoccupare L'imodo Prendiamo giusto Ello stretto Indispensabile Non ti preoccupare E fare una brutta fine Ragazzi In mano mia State in mano All'arte State in mano All'arte Dico Eh lì vedo qualcosa C'è una torretta Un uomo torretta Un uomo torretta Au Via Succhiami la torre Tieni Cagnolino Succhiami la fargo No Non esiste quella parola in italiano Vai Non è vero Questo lo credi tu Aspetta Fammi fare altre visual Ah 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 Eh Eh Ah Non è vero Non è vero Iscrivetevi Ce l'hai dietro Ce l'hai dietro Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non c'è più Ciao Angela Ciao Eccolo lì Ehi bastardo Ehi tu porco Levale le mani di dosso Ah Devi tornare Va bene così Non devi sacrificare il tuo culo Per il video Però potrebbe essere content Eh lì Prendi mano la telecamera Minza Non mi fido Cazzo Ragazzi Non mi fido per niente Non voglio discendere Ma allora cosa torna Fammi fare Caglia Proviamo a comunicare Riprendimi dall'alto Proviamo a comunicare Con questo signore 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 S Cazzo Deve scappare via Deve scappare via Deve scappare via Scappa via Scappa via Ragazzi Ragazzi è un ragno gigante Via No no Katia io porto in salvo Questo cazzo di video Non ho visto il ragno Dove è successo Quando è successo Ma è morta Cazzo c'è qualcuno lì Ragazzi c'è un mostro Sulla nostra capanna Ma sembra un tema No 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 ragazzi Appena rientriamo C'è un mostro lì davanti E Katia è morta Ah è quello col coltello Cazzo No è quello col coltello La capanna È stata scopata Certo Ellie Non ce lo sapevo io che ci saremmo Di questo video per colpa di Katia No ti prego 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 Io me ne vado Vaffanculo Katia Ma che cazzo è la pressione È morte È stata presa Sono viva Hello Mother father Mother father Dove siete? Pronto? Veramente scandalosa Katia Io l'ho fatto per il contenuto Ma non l'hai ripreso nemmeno Cioè non c'ero io lì Perché se no morivo Hai fatto bene Vai hai preso dall'alto Aspetta Aspetta di pallare Scusa Ormai ci ha preso Dai carica Questo video 2000 views Questo video almeno 2000 Se non fa 2000 No non credo Veramente Lo disconosco 3 2 1 Sai di celebra Babalu vabbè Via Disilio del best dance Che vero C'è una pofretta Katia riprendi un pofretto Attenta non ti fai sparare No Katia Succhiamila torre Tieni Cagnolino Succhiamila torre Succhiamila torre Succhiamila torre Succhiamila torre Succhiamila torre Comunicare con questo signore 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 Oh no Signore Succhiamila torre Succhiamila torre Succhiamila torre brava eli 1.600 c'è bomba bomba non finito abbiamo finito fammi andare a dormire aspetta salviamo almeno i ragazzi secondo me c'è stare bellissimo abbiamo fatto più se hai visto che l'ultimo giorno era quello più proficro ci credo che vieni questi punti bastardi io vi ho detto che oggi era la giornata buona per fare i punti dormiamo aspetta basta sesso vittorioso vabbè non capisce niente dormire sonno che prendetevi sti punti sempre a dire che noi mancano tre giorni 39 mila di user il modo dobbiamo prendere veramente il male la prossima volta dobbiamo prendere veramente il male perché dobbiamo fare 39 mila visual però abbiamo 645 dollari quindi secondo me possiamo comprare letteralmente di tutto ok senti ma io posso dare il video al mio editor di coca ma sì certo sì 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 assolutamente sì no ma secondo me escono fuori robe divertentissime mi fanno morire video che facciamo sono stra belli allora io intanto però chiudo qui direi che chiudiamo per rotto dei aspetta quindi quindi io 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 Grazie.